42 N.E.R.D. Ok, ciao Davide, è un piacere reintervistarti qui a Cine, a Riccione Insomma, Disney per noi è chiaramente molto importante perché parliamo noi ai fan, per cui chiaramente voi siete la massima espressione per quanto ci riguarda Marvel Star Wars forse anche Fox in futuro insomma, tantissime proprietà intellettuali che ci riguardano assolutamente in prima persona Grazie, grazie a te e buongiorno a tutti soprattutto. Molto bene Allora, è passato il primo semestre Cine è anche, è sia diciamo un luogo in cui vedere le novità del futuro ma anche un posto in cui diciamo fare un po' il recap, insomma un riassunto del primo semestre. Dimmi un po' qual è secondo te nei primi sei mesi il film che vi ha stupito di più a livello di incassi e invece quello che è andato peggio e non ve lo aspettavate insomma e perché? Allora, il primo semestre come dicevo anche oggi durante la convention io ho fatto un oggi raccontiamo un po' della stagione noi consideriamo un po' la stagione dal primo dicembre che è quella che anche si lega un po' al discorso dei biglietti d'oro quindi dell'admission in ogni caso anche considerando il primo semestre sicuramente spiccano Star Wars Infinity War che è campione di incassi Avengers Avengers Infinity War mamma mia che lapsus Avengers Infinity War campione di incassi a livello mondiale perché ha superato i 2 miliardi di di dollari di box office globale diventando così il quarto titolo nella storia di tutti i tempi nella storia come incasso per noi è il primo titolo con oltre 18 milioni e 6 della stagione se allunghiamo la stagione come dicevo prima al primo di dicembre poi abbiamo un abbiamo dei titoli come Star Wars gli ultimi Jedi secondo titolo anche qua della stagione ci sono in tutto 6 titoli abbiamo fatto più di 60 milioni di euro di incassi quindi per noi è una stagione fantastica è un inizio fantastico un inizio d'anno fantastico non dimentichiamoci anche i vari Coco un'altra sorpresa ecco siccome tra le varie sorprese soprattutto a livello global ma devo dire anche a livello italiano secondo me è stato anche Black Panther Black Panther è diventato il nono il nono film di tutti i tempi per incasso è andato molto bene in America è andato molto bene anche in Italia è andato bene sì secondo me è andato bene anche in Italia tra l'altro secondo me è andato anche oltre le aspettative soprattutto anche perché rappresentava un nuovo personaggio quindi come tutti nuovi caratteri di Marvel e si è già subito posizionato con circa 7 milioni di incasso quindi voglio dire anche in questo caso un titolo e un caratteri di tutto rispetto ovviamente forse tra tutti i titoli quello che quello che è così non è andato come ci aspettavamo è stato solo solo Star Wars Story sicuramente non è andato come ce l'aspettavamo a livello di aspettative speravo arrivassi lì perché mi voglio proprio ricollegare solo per me è stato molto bello a noi è piaciuto a noi intendo alloiga nerd ma anzi dico a me è piaciuto molto lo trovo un film molto vicino alla fanbase di Star Wars a quella dura e pura ed è per questo che a me è piaciuto molto capisco che non posso essere piaciuto magari a un altro tipo di pubblico una critica che è stata fatta e che insomma rileggo spesso come motivo per il quale ha incassato poco ma a livello globale non solo a livello italiano è che non è stato diciamo spinto abbastanza tu ti occupi proprio di dirigere il marketing Disney per cui cosa ne pensi tu di questa cosa? Allora io su questo dissento un po' vabbè non perché mi voglio voglio difendere il mio lavoro voglio difendere quello che faccio però in realtà secondo me invece guardando un po' le varie campagne marketing che abbiamo fatto è una delle campagne marketing più forti che abbiamo mai fatto tra l'altro il titolo è stato presentato anche a Cann e non so se ti ricordi comunque Cann ha portato dietro un battage in termini di publicity forse un po' più per il per la general audience che non magari per il fan notevole anche se devo dire in questo caso e correggimi se sbaglio il fan però è sempre quello anche più aggiornato rispetto a un titolo certamente sì che non che non devo banalmente non devo convincerlo e soprattutto permetti di dire non nel marketing magari non non riesco non dico a convincerlo con strumenti di marketing lo convinci con altro il fan lo convinci con il contenuto mentre invece magari lo strumento di marketing ti serve per la general audience e per il pubblico diciamo così non non specifico non fan per il pubblico magari un po' più saltuario che ovviamente più percependo il titolo magari anche come film evento è più invogliato a a vederlo anche se magari non aderisce completamente ai propri gusti come quello magari di Star Wars devo dire con Star Wars e mi ricollego al tuo punto iniziale anche qua non voglio muovere critiche io non sono fan di Star Wars quindi magari sto dicendo per voi un'eresia mentre sono fan Marvel non essendo fan Star Wars a differenza del mio collega Giulio che invece lui è uno dei fan e secondo me anche uno di quelli un po' più puri l'ho trovato un film comunque anche a me è piaciuto tantissimo l'ho trovato godibilissimo l'ho trovato comunque bello pur non conoscendo poi tutte le completamente le dinamiche le dinamiche Star Warsiane per me era un film comprensibile a tutti quindi mi ha sorpreso un po' anche a me se vuoi il fatto che il film poi non ha raggiunto le aspettative quindi secondo te anzi non secondo te non so se avete fatto degli studi insomma su chi è andato al cinema è probabile che non sia andato bene perché il grande pubblico non è andato al cinema mentre i fan sì è questo che mi stai dicendo allora sì secondo me i fan comunque poi lo odiano lo amano anche perché qua tu lo sai benissimo certo è sempre così i fan ma in tutte le cose in tutte le cose da fan anch'io di Marvel o di altro anch'io ci sono alcuni film Marvel che mi piacciono non mi piacciono alcuni character che mi piacciono non mi piacciono però la fin fine lo vado a vedere perché comunque per me rappresenta qualcosa in cui ci credo e devo andare a vederlo poi magari lo critico lo odio però intanto ci vado a vederlo quindi ripeto qua non ti devo convincere attraverso strumenti marketing attraverso una pubblicità ti convinco comunque ti guardi i contenuti e poi decidi se venire a vederlo o non vederlo è mancato secondo me tutto l'altro l'altro pubblico tra le grande statuario che secondo me anche il pubblico che ha fatto il successo poi del primo del primo episodio della nuova saga del risveglio della forza è stato talmente percepito anche in questo caso caspita era un film evento erano anni decenni che non si vedeva un film di stato si portava dietro tutto un battaggio non pubblicitario ma un battaggio proprio di come dire di buzz di informazioni di persone che comunicavano di JJ Abrams che faceva i tweet c'era tutto davvero era diventato un po' il fenomeno che non potevi mancare ecco secondo me è mancato un po' probabilmente questo aspetto che è ecco su questo poi dopo andiamo avanti a parte solo l'altra diciamo analisi comunque che gira online è appunto che non c'era più non è stato percepito come un evento quanto gli altri film di Star Wars soprattutto perché è arrivato molto molto presto molto poco dopo The Last Jedi cioè solo sei mesi dopo è stato un errore secondo te farlo uscire così presto e non magari il Natale dopo ma secondo me no non è stato un errore non è stato no non penso proprio secondo me non è una questione di tempistica forse è più probabilmente una questione di aspettativa anche qua per me ripeto io ero anche un po' sorpreso perché poi solo per me Han Solo Han Solo come vuoi è un personaggio anche iconico cioè quindi era un personaggio forte quindi anche qua non riesco a giustificarmelo con semplicemente con un discorso di timing troppo ravvicinato non può essere quello un film quando è un film comunque lo vai a vedere se secondo me è di aver mancato un attimino forse anche quella capacità da parte nostra di attrarre un po' di più il pubblico per chiudere il discorso solo mi confermi anche tu che Disney è comunque ancora al lavoro sui nuovi spin off che sono quelli che stanno più a cuore attualmente anche in questo caso ho visto qualche notizia internet che non non posso confermare solo voce e rumor non hai nulla in più no ok va bene andiamo avanti abbiamo parlato anche troppo di solo quanto è importante il mercato italiano per Disney quanto è percepito a livello di barbank l'Italia quanto lo senti tu vicino diciamo la sede centrale gli ne frega qualcosa dell'Italia è una roba assolutamente sì assolutamente sì devo dire ancora di più lo dico con fermezza e convinzione adesso che ci sono altri mercati in Argentina Cina Giappone o altri in grado finalmente lo vedete tutti e se guardate le statistiche lo capite in grado di fare box office che vanno oltre i risultati in alcuni casi anche di tutta l'Europa continua a rimanere un mercato importante continua ad avere una vicinanza con loro noi abbiamo meeting continui con la nostra sede nella giustificazione che i filmmakers quando vengono vengono spesso anche in Italia i filmmakers di film di animazione di tutti lo stesso anche i talent quando possono vengono in Italia non solo perché l'Italia è un bel paese ma perché l'Italia comunque rappresenta ancora nel panorama mondiale un paese all'interno dei 10-12 a livello mondiale di box office quindi assolutamente sia ancora importanza lo dico con un'estrema sicurezza e convinzione molto bene a livello italiano è molto attiva la fanbase in generale io adesso parlo di Star Wars ma chiaramente anche tutto quanto il mondo Marvel diciamo che siamo tra i più attivi in generale neanche a livello europeo a livello mondiale abbiamo Luca Comics & Games che è la più grande manifestazione del mondo di pop culture per numeri sorvolando su Tokyo che fa altro Luca è la più grande del mondo quindi c'è tantissima voglia da parte degli italiani di appassionarsi alle vostre diverse proprietà intellettuali che hanno fatto la storia eccetera come supportate i fan voi come Disney Italia lavorate insieme ai diversi fan club lavorate insieme alle diverse manifestazioni cioè tu senti che potreste fare di più vorresti fare di più qual è il problema secondo te se c'è un problema chiaramente allora no non vedo non vedo in questo caso problemi collaboriamo cerchiamo di coinvolgere il più possibile nei nostri lanci quindi tu hai citato Luca Comics Luca Comics noi siamo sempre stati presenti siamo stati anche se vuoi una delle prime distribuzioni a crederci presentai io stesso alcune clip di Avengers prima che venne lanciato ogni anno ci siamo ogni anno ci teniamo anche che ne so anche i vari titoli che vengono lanciati in quel periodo come Thor Ragnarok anche lì a omaggiare perché riconosciamo comunque l'importanza dei fan comunque i fan sono nostra come dicevi tu sono nostra fanbase per noi sono anche una nostra fonte quindi li ascoltiamo li ascoltiamo attraverso i social anche questo è un altro strumento un altro mezzo importante per noi dove è possibile li coinvolgiamo i fan di Star Wars sono i primi ad essere coinvolti quando organizziamo un evento quando organizziamo un'anteprima quando organizziamo qualcosa di particolare i fan Marvel sono già un po' più sparsi rispetto magari ai fan di Star Wars che hanno un po' più se vuoi delle location o delle nicchie in cui vengono raggruppati i fan di Star Wars sono un po' più tra i dati e riconoscibili mentre i fan di Marvel sono un po' più sparpagliati però ci sono eventi come Luca Comics che secondo me rimane ancora uno degli eventi anche a livello mondiale nonostante ovviamente il Comic Con di San Diego sia quello più più titolato a livello mondiale Luca Comics lo dicevi tu a livello di presenza anche per la location insomma non nascondiamoci San Diego chiaramente è un po' più comodo sì ma sono anche strategicamente sì ma sono anche facilitati perché ovviamente anche il rapporto con talent con la produzione con tutto il resto è molto più facilitato però no devo dire che ripeto il contatto diretto con i fan c'è dove è possibile li coinvolgiamo cerchiamo di coinvolgerli ripeto magari con qualcuno è più difficile di altri un po' meno con qualcuno è un po' più facile si potrebbe fare di più sì secondo me come in tutte le cose c'è sempre spazio di miglioramento sicuramente Luca Comics è un momento in cui li raggruppa un po' tutti e devo dire che Luca Comics ha fatto degli sforzi notevoli perché poi anche lato nostro lato cinema era una come si dice era una manifestazione nata con tutt'altro obiettivi in tutt'altro modo quindi fumetti games e poi si è ritrovata e adesso vedo che è diventato anche un appuntamento ormai di consuetudine l'appuntamento con il cinema anche a Luca Comics quindi secondo me dei passi avanti si stanno facendo e secondo me ripeto comunque voi rappresentate per noi anche il nostro come definiamo sempre noi del marketing core target quindi dobbiamo per forza e ci fa anche piacere confrontarci con voi mi diverto anche a leggere sia da fan sia da non fan tutto quello che poi pubblicate ovviamente qualcuno magari un po' più come dire un po' più soft di altri però è indubbiamente anche per noi una fonte anche per noi di miglioramento anche nelle nostre attività di marketing quindi molto spesso in realtà quello che può essere percepito come una critica anche negativa in realtà per noi è una critica positiva questo ci fa molto piacere sì la vediamo effettivamente allora ripeto siete un po' il nostro punto di riferimento se mi arriva una critica da voi la peso in un altro modo rispetto invece a un pubblico magari un po' più saltuario quindi assolutamente se le vostre critiche per me non sono negative ma sono critiche positive che cerchiamo poi di dove è possibile perché ovviamente anche noi però di applicare in quello che poi è il nostro lavoro e nei lanci futuri ovviamente non mi occupo di produzione di titoli però anche in questo caso molto spesso so che devo dire un po' soprattutto per quanto riguarda Marvel e Star Wars anche loro a livello di produzione sono molto attenti a quelli che sono poi i fan i fan sono poi i primi da accontentare perché siamo fan lo dico io da fan di Marvel devi fare un film per me certo poi ovviamente se è un film come Avengers Infinity War vabbè lì è vincere facile che lì vuoi dire no diventa anche un film corale diventa anche un film davvero per tutti beh è stato un grande evento dopo dieci anni una coincidenza di cose voluta esatto ti fa fare determinati risultati ti chiedo un'altra cosa mi ricollego sia quello che diciamo di Lucca sia il posto in cui siamo Cinè Cinè insomma è una manifestazione destinata unicamente anche alla stampa però soprattutto agli esercenti insomma ai proprietari di sale in cui vengono presentati i listini è ben poco conosciuta dal grande pubblico e dai fan cioè pochi sanno che esiste io vengo tutti gli anni perché sono romagnolo sono vicino perché mi interessa e ogni anno rimango sempre più sorpreso dalle vostre conversi convention quella di Disney in particolare perché è solitamente quella più grande più spettacolare ma anche gli altri Warner Bros insomma tutti quanti fanno veramente cose incredibili quindi questo lo dico per chi ci sta guardando immaginate molti schermi un grande teatro tante persone un bellissimo palco la presentazione di tutto quanto il listino un piccolo recap di quello che è successo e addirittura come anche quest'anno un'anteprima di qualche minuto quest'anno abbiamo visto addirittura 30 minuti degli incredibili 2 e ogni volta penso cavolo ma perché perché fanno questa roba per questi 200 esercenti 500 esercenti e non fanno una cosa simile così spettacolare così bella per i fan in una manifestazione come può essere Luca questa è una critica o comunque un desiderio diciamo rivolta sia a voi ma anche a Luca ovviamente cosa manca cosa servirebbe secondo te è una cosa fattibile perché non fate qualcosa di simile che vi avvicini un po' a quello che è il percepito del comic con per gli italiani non dico di portare gli attori però quello che ho visto oggi si avvicina veramente io sono stato al comic con di New York insomma si avvicina veramente molto perché non lo fate anche per il pubblico e non solamente per gli esercenti allora secondo me è sicuramente un ottimo spunto anche di discussione per noi perché la trovo anche io una cosa la trovo anche io una cosa interessante probabilmente se non ad oggi non c'è mai stata neanche se vogliamo una concertazione da parte di tutti nel creare un evento simile però assolutamente sì disponibilissimi a allora a intraprendere chiamiamo Luca a intraprendere un progetto simile Luca Crea ascoltaci Disney disponibile noi ci parliamo quotidianamente forse c'è il percepito e magari sono assolutamente sincero che forse una cosa così è per addetti ai lavori in realtà tu mi stai dicendo un'altra cosa per me il contrario che non è solamente per addetti forse è più il percepito nostro che magari ci blocca in questo caso nel dire vado a presentare un listino al pubblico che non sono addetti al lavoro però poi in realtà hai ragione tu poi presentiamo contenuti sì esatto rimango convinto che i proprietari dei cinema farebbero vedere i vostri film a prescindere invece uno spettacolo del genere avrebbe molto più valore per no ripeto forse è più un preconcetto nostro da convention da addetti a lavori che quindi il fan il pubblico magari potrebbe non essere interessato invece appunto me lo stai smentendo però ripeto per me è un argomento assolutamente trattabile discutibile anche con anche con anche con Luca e con le altre distribuzioni sì sì bene mi fa molto piacere ultima domanda mi ricollego appunto alle sale cinematografiche e facciamo uno sforzo di immaginazione viaggiamo nel tempo andiamo avanti di vent'anni cerchiamo di capire che dieci anni fa non c'erano gli smartphone vent'anni fa non c'era internet tra vent'anni ci saranno ancora le sale cinematografiche o comunque diciamo i vostri contenuti saranno ancora visti dentro delle sale cinematografiche o cambierà completamente secondo te il modo di usufruire dei vostri contenuti allora fare una previsione a vent'anni effettivamente soprattutto in questo periodo in cui di anno in anno cambia completamente tutto il panorama tecnologico è difficile voglio credere che rimarranno le sale cinematografiche voglio credere che rimarrà l'esperienza cinematografica ecco poi qua si potrebbe aprire anche qua un capitolo che l'esperienza cinematografica magari potrebbe essere vissuta fisicamente in un altro tipo di location magari stando a casa con un visore e ti immergerai nella stessa nella stessa atmosfera io dico sempre una cosa che magari aiuta però anche qua dobbiamo fare uno sforzo anche in questo caso noi siamo tutti abituati a vederci trailer nostri della concorrenza nostri magari mi guardo anche 10 20 30 40 volte seduti a un computer in fase di lavorazione magari anche nello schermo in uno schermo anche un po' più grande negli uffici così ci guardiamo anche i nostri competitor anche la concorrenza anche quelli degli altri istitutori ogni volta che vengo qua a Cine me lo ritrovo qua me lo guardo seduto insieme ai miei colleghi o insieme anche a colleghi di altre istituzioni insieme a qualche esercente me lo ritrovo su un altro schermo nonostante l'abbia guardato 30 volte il trailer di Mary Poppins l'abbia guardato 30 volte ancora mi emoziono cioè guardo il trailer di Dumbo ancora quasi mi scende una lacrima quindi effettivamente l'esperienza cinematografica intesa proiettata su quello schermo di quelle dimensioni con l'audio in quel modo ancora rievoca in me dopo tutto questo delle emozioni allora qualcosa c'è che il cinema ti trasmette e questa è un'emozione a questo aggiungo la socialità che è l'altro aspetto importante del cinema al cinema ci vai con gli amici ci vai con la famiglia con la fidanzata ce la siamo portati tutti fidanzate o fidanzati visto dall'altra parte quindi ed è un momento magico un momento un po' tuo tra vent'anni potrebbe cambiare ma diciamo che un messaggio per chi attualmente gestisce sale cinema o comunque per chi sta sviluppando le nuove tecnologie è mantenete l'esperienza attuale cioè grandi schermi socialità ottimo audio magari cambierà la tecnologia 3D, 4D, 5D, 6D non lo so ci saranno nuove tecnologie però non so il fatto di fruire i punti cardine vanno mantenuti in quel modo poi tra l'altro non lo so per me il cinema è proprio il prendere anche lì alle volte richiede uno sforzo in più però secondo me è quello poi anche il bello del cinema il cinema devi prendere uscire di casa andare decidere di andare al cinema quello fa parte tutto dell'esperienza cioè tu ti stai ritagliando un'ora e mezza due ore del tuo tempo da dedicare a un film questo è interessante a questo non avevo pensato cioè tu dici la scelta psicologica con amici anche con gli amici poi ti predispone e tu vai lì due ore e per due ore vieni completamente traslato in un altro mondo quella è secondo me il segreto poi dell'esperienza cinematografica e questa secondo me deve essere anche uno dei punti di forza nostro intesa come industria del cinema far percepire proprio questa cosa cioè il valore emozionale sociale dell'esperienza proprio cinematografica sei lì per due ore sei in un altro mondo vivi un'emozione una magia ti innamori ti commuovi quella secondo me è l'esperienza cinematografica che è l'esperienza online l'esperienza di uno smartphone l'esperienza anche di una tv non ti dà lo stesso modo poi anche in tv ci sediamo con la famiglia a guardare il film e te lo guardi però ecco il momento in cui prendi con la tua famiglia esci di casa vai a vederti un film è un momento va bene ti ringrazio molto Davide è stato molto interessante grazie a te e soprattutto grazie a voi grazie 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 a tutti grazie a tutti